Competenza economica, ovvero il principio della competenza economica. Secondo il principio di competenza economica, in inglese actual, l'effetto di operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quelli in cui si concretizzano incassi e pagamenti. Il cosiddetto principio contabile numero 11 dell'organismo italiano di contabilità, anche dei TOEIC. Così, ad esempio, il valore di un servizio acquisito e utilizzato nell'anno N, ma pagato l'N1, è attribuito per competenza economica all'anno N. Il principio di competenza economica è richiamato anche dall'articolo 24-23 bis del Codice Civile e per quanto riguarda specificatamente le amministrazioni pubbliche, è incluso tra i principi generali degli allegati 91-2011, amministrazioni pubbliche non territoriali, al 118-2011 e al decreto legislativo 90-2016 dall'amministrazione centrale dello Stato. A livello internazionale, il principio delle competenze economiche costituisce il riferimento per la valorizzazione delle voci dei conti del sistema europeo e dei conti nazionali, SEC 2010.